Presidente Marchesani, partita bruttissima, primi due quarti dove sostanzialmente la partita era già terminata, cosa è successo? Uso un termine per descrivere quattro quarti, credo che oggi c'è soltanto da vergognarsi. Abbiamo continuato l'ultimo quarto di Chiusi, l'abbiamo ripetuto nei quattro quarti di oggi, c'è soltanto da vergognarsi da parte di tutti i giocatori, del coach, di tutto lo staff tecnico perché è una prestazione indegna, indecorosa, soprattutto davanti ad un pubblico che oggi ha fatto sentire il proprio apporto, il proprio calore alla squadra. Il pubblico, i nostri sostenitori, gli sponsor, la società e io stesso non meritiamo questo tipo di approccio né dalla parte dei giocatori e soprattutto dalla parte tecnica. Qui credo che non c'è più voglia di voler lavorare come si deve, è chiaro che questa è stata una partita che mi ha fatto tanto riflettere durante i 40 minuti. Cosa ha pensato in questi 40 minuti, ha riflettuto su cosa? Ho pensato tanto, nell'arco di 24 ore saprete che cosa stavo pensando.